Ben ritrovati dalla redazione di news24.city. Lecce perde l'equilibrio e cade dal balcone. Grave una bambina di 4 anni, la piccola, ricoverata in rianimazione all'ospedale Vito Fazzi. Corato picchia il gestore di una sala giochi e li ruba l'incasso. Arrestato, 19enne, episodio accaduto davanti ai clienti, giovane e rintracciato grazie alle testimonianze. Bari maltrattamenti in scuola materna, condannate due maestre a 3 e 4 anni di reclusione, 15 le piccole vittime che saranno risarcite. Carovigno si era appropriata di immobili e risparmi di un'anziana per 435.000 euro, donna denunciata per circonvenzione dopo denuncia dei parenti. Foggia, paziente in braccia a fucile, minaccia dottoressa di guardia, ennessimo episodio di violenza nel silenzio delle istituzioni. Barletta, cane antidroga, trova due chili e mezzo di marijuana in un box. Arrestato, 43enne, rinvenuti anche due bilancini digitali, coltelli, forbici e numerose buste.